Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'anticiclone continua a dominare buona parte del Mediterraneo e anche l'Italia, al più qualche nota instabile proveniente dai Balcani sta portando qualche raffica di maestrale e un momentaneo calo termico sul versante asiatico. Nulla di particolarmente rilevante, sarà solo una breve pausa prima di una nuova intensificazione del caldo negli ultimi giorni della settimana. Per quanto riguarda questo giovedì 19 maggio, stabile su tutto l'Abruzzo, primo dominio quasi totale del sole, qualche addensamento nelle aree interne e sui monti, ma non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi. Le temperature in calo momentaneo rispetto ai giorni scorsi, notiamo le massime tra i 20 e 24 gradi, clima molto più gradevole sui tratti costieri dove soffrirà una sostenuta brezza. Le minime in lieve calo, notate i 7 gradi di L'Aquila, valori tra i 12 e i 14 gradi sulle restanti aree a bassa quota. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.